Ciao a tutti gli amici di Pistacchissimo.it, direttamente da Raffadali in provincia di Agrigento, il panettone al pistacchio di Le Cuspidi. Panettone semplice, senza uvette e senza canditi, è glassato al pistacchio ma all'interno non è farcito perché, come dice l'etichetta, troviamo la bottiglietta di Squeezie da spalmare sulle fette man mano che le tagliamo. La percentuale di pistacchio sulla copertura è del 25%. Invece la percentuale di pistacchio nella crema è del 20%. Non è altissima ma prima assaggiamola. Ed ecco lo Squeezie con la sua confezione dedicata, veramente bellissima. Via la scatola e apriamo. Ed ecco il panettone veramente voluminoso ma non pesante, quindi veramente lievitatissimo e la crema, come vi dicevo, da spalmare a parte perché non è farcito. Andiamo a tagliare. Mamma mia! Dentro sembra che non ci sia il panettone per quanto è soffice come scorre il coltello. Ed ecco qua la fetta. Come vi dicevo, all'interno del panettone è semplicissimo. Andiamo a renderlo più pistacchioso. Apriamo la crema e andiamola a mettere sul panettone. Perfetto. Andiamo ad assaggiare. La morbidezza, pazzesca. Posso affermare senza dubbio che per essere una 20% mi ha davvero stupito. Forse è una delle migliori creme al 20% che abbia assaggiato. Veramente sorprendente. La glassa invece devo dire che è molto molto sottile, quindi non si sente molto. E quindi passiamo alle conclusioni. Il panettone è morbidissimo, l'impasto sembra quasi una brioche che si amalgama con la crema. Crema che avete capito mi ha decisamente sorpreso perché per essere una 20% ha un gusto di pistacchio decisamente ben definito. Aiuta sicuramente la nota di tostato molto accentuata che però non è quel tostato che ricorda poi la nocciola ma rimane tostato di pistacchio. La copertura sicuramente gradevole, forse un po' troppo sottile quindi alla fine non si sente tantissimo. Buoni invece ovviamente i pistacchi granellati sopra. E quindi se cercate un impasto semplicissimo e una crema da spalmare a parte, che è una cosa che a molti piace perché permette di regolare meglio la quantità di crema da mettere nelle varie fette, questa è sicuramente un'ottima opzione. Vi ricordo che non si trovano solo a Raffadali ma anche in altre località in provincia del Grigento. Infatti quest'estate ho avuto il piacere di assaggiare il loro gelato al pistacchio mentre facevo un po' di vacanza in giro per la Sicilia ed è veramente molto molto buono. E niente con questo ricordo nostalgico delle vacanze estive ma ora godiamoci quelle natalizie, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.